C'è grande attesa in Alta Valle Camonica, sabato 10 luglio, la cittadina di Edolo per una notte si trasformerà in un'arena centro-nevralgico del kickboxing internazionale. La cornice dell'evento sarà quella della piazzale Brigata Alpina-Eurobica, per intenderci l'area mercatale del paese, al centro della quale verrà posizionato il ring teatro di una lunga serie di combattimenti. I match più attesi quelli che metteranno in paglio i titoli mondiali. Tra i combattenti anche il campione europeo in carica, Salvatore Castro, protagonista del main event la serata, che avrà inizio alle 19 e continuerà sfida dopo sfida fino alla mezzanotte. Sì, infatti ormai ci siamo, sono davvero entusiasta, siamo arrivati alle battute finali, manca soltanto il grande evento, il grande spettacolo e vi aspetto tutti in piazza mercatale a Edolo per godervi un grande show dello sport da combattimento. Per chi ama il KO, per chi ama un grande spettacolo, venite a Edolo, ci siamo, il tempo è scaduto. Ricordo che c'è anche un grande cartello prestigioso perché abbiamo dei match davvero imperdibili, stiamo parlando di tre titoli mondiali, di due titoli italiani Fight One Pro e dei Prestige Fight da urlo. Da segnalare tra gli altri la pluricampionessa Chiara Vincis e il giovane emergente Novati. È uno spettacolo davvero, tutto da gustarsi. Abbiamo appena finito la cerimonia del peso, una cerimonia del peso fatta come si deve, nel senso dando giusto risalto agli atleti che sono tutti carichi e pronti per dare lo spettacolo domani sera. Avremo mille posti disponibili per riempire la piazza, una volta riempita di queste mille persone dovremo fermare l'ingresso. Quindi affrettatevi, è vero che sono mille ma nello stesso tempo sono pochi. Venite presto, così vi gustate di sicuro lo spettacolo e avrete la certezza di poter accedere alla piazza mercatale di Edolo. Vi aspettiamo. Vi ricordo che Antares inizierà alle 5 di pomeriggio con degli incontri di dilettanti, nel contatto leggero e nel contatto pieno, per poi entrare piano piano nel vivo della serata con Antares Fight Night. Affrettatevi, non perdete tempo e andate a prendere il vostro posto in piazza a Edolo. Grazie a tutti.